ciao vediamo un esercizio per liberarsi dalle emozioni negative allora se vuoi liberarti delle emozioni negative devi pensare a un'emozione negativa supponiamo che vuoi liberarti dalla rabbia allora devi agganciare la rabbia quindi andare a vivere ad esempio un episodio in cui hai provato della rabbia andatelo a ricordare quindi tirare fuori la rabbia nel momento in cui hai tirato fuori la rabbia e senti rabbia devi eliminarla perché per eliminarla bisogna prima far sì che si manifesti e la puoi eliminare con la respirazione la respirazione consapevole resta centrato sulla rabbia inspira e quando espiri immagina la rabbia come un fumo nero denso che esce fuori da te poi inspira energia pulita ed espira rabbia sotto forma di un fumo nero denso pieno di tutta la rabbia di cui ti vuoi ti puoi ti devi liberare inspira energia pulita ed espira rabbia sotto forma di fumo nero procedi così fin tanto che piano piano noterai che il fumo nero perderà di intensità sempre di più sempre di più e a un certo punto non riuscirai neanche più a visualizzare il fumo nero perché uscirà automaticamente entrerà energia pulita uscirà energia pulita significa che la rabbia almeno quella quantità di rabbia che tu hai tirato fuori legato a quell'episodio è sparita l'hai tolta e quindi hai tolto un po di rabbia non è detto che non hai più rabbia in assoluto perché magari esistono altri episodi che possono farlo venire fuori però una parte è andata sicuramente via quindi puoi procedere se riesci a trovare altri modi per scatenare la rabbia o se ti capita qualche situazione in cui vivi rabbia ne prendi atto e le elimini in questo modo con la respirazione lo stesso puoi farlo con le altre emozioni negative ad esempio la gelosia per dire l'invidia e quant'altro bene per questo video è tutto se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta se il video ti è piaciuto metti un like condividilo con i tuoi amici ciao